Come mai Colombo? Colombo perché, come ho detto prima in conferenza, abbiamo sentito alcuni mister ed è stato quello che in qualche modo ci ha più convinti e soprattutto è stata anche una scelta condivisa, per cui noi dal 4 di giugno eravamo già abbondantemente convinti. Le voci su Zeeman quindi erano infondate? Sapete quello che penso, quindi non me lo fate ripetere ogni volta. Per quanto mi riguarda va tutto bene. Io ho sempre detto che il mister è una persona che stimo molto come allenatore, ma poi ci sono dei momenti in cui bisogna staccare, se no ripetiamo sempre le stesse cose. Presidente, da un punto di vista societario, le cose vanno avanti, i accordi sono stati fatti, però non è ancora il tempo delle comunicazioni? No, no, non è il tempo perché io sono abituato a fare le cose fatte bene e quando saranno ufficiali saprete tutto ufficialmente su tutto quello che avremmo concordato. E poi magari si penserà anche a quanto bene vuole il Presidente a questa squadra. Senta, invece sul fronte dell'allestimento organico mi ha colpito molto questo aspetto, cioè cercare di, più possibile, sostanzialmente togliere i contratti attuali. Comunque c'è bisogno di dare una rinfrescata un po' anche al parco giocatori? No, no, non c'è bisogno, c'è la volontà di cercare di rinnovare il più possibile, anche se noi, detto sinceramente, abbiamo veramente ancora due o tre giocatori che sono qui da più tempo, il resto sono quasi tutti nuovi per cui c'è poco lavoro da fare. Quindi credo che quest'anno sia l'anno zero perché abbiamo sfoltito molto la rosa, ci siamo tolti dei costi importanti e quindi si può ragionare in questo momento da società che deve fare una Lega Pro. L'ultima, Memushai non sarà più un giocatore del Pescara perché lei lo ha annunciato di fatto, sarà il nuovo allenatore della primavera. Sì, sarà il nuovo allenatore della primavera, ho parlato con Leidian una settimana fa, abbiamo concordato che forse è il caso di finire, lui ha questa volontà di allenare e quindi anche lì cambiamo un po' tutto, quindi il primo sarà Memushai.